Respirare quest'aria, vedere, fare questa esperienza che comunque tutti da bambini sognavamo di poter fare, entrare a Tricori, allenarsi, magari sentire un po' l'aria da prima squadra, è un'emozione che non si può descrivere, ma immaginarselo è totalmente un'altra cosa rispetto a viverlo, ovviamente la notte sarà passata in bianco perché troppa l'emozione, è surreale, è tutto un sogno veramente, ancora non ho realizzato. Questo è un terreno sacro per noi, è un terreno che vuol dire tanto, quindi hai anche molta soggezione nell'entrare, nel vederlo. Non ti nascondo che forse l'emozione è più grande, è stata proprio varcare il cancello verde e il campo non ne parliamo, il campo è come la cappella Sistina, non so se si può dire. Per me la Roma è un amore incondizionato, a me la Roma non deve niente, è quello che sento io, cioè la Roma gioca, vince, perde, io sempre romanista rimango, l'anno prossimo sarò romanista. Il mister è simpaticissimo, è un gran signore, ci ha accolto benissimo, ci ha fatto sentire ben voluti, i ragazzi anche hanno voluto fare la foto con noi, quindi sono stati tutti veramente carini, poi vederli dal vivo, come dicevo prima, si respirano in l'aria, che tu sogni da bambino, tutti quanti abbiamo sognato di diventare il numero 10 della Roma, no, perché era occupato. capito? Capito, se ti fai giocatore, pure. Non è proprio posto come dire. Cari, però non c'ingava, assi.